Questo stranissimo oggetto che vedete nelle mie mani in questo momento è uno Stream Deck di Elgato ed è la sua quinta iterazione, in questo caso siamo di fronte alla versione Plus. Lo Stream Deck probabilmente lo conoscerete tutti, è un prodotto che ormai abita nelle postazioni di tutti i nostri streamer preferiti, ma anche di gente che lavora, che fa gaming, veramente è un prodotto super super interessante. E in questo caso siamo di fronte a una versione che finalmente soddisfa quelle richieste che per anni e anni e anni ho sottoposto a Elgato, ovvero la presenza di alcune manopole analogiche con cui poter lavorare e integrare delle nuove funzionalità veramente molto interessanti. Come potete vedere questo nuovo Stream Deck è abbastanza diverso rispetto ai classici Stream Deck a cui siamo abituati. Questo che vedete qui è la Mark II, ovvero la versione più recente per il modello di mezzo, quello con 15 tasti. Non è quello piccolo, non è quello XL, è quello di mezzo. È quello a cui siamo più abituati. 15 tasti completamente personalizzabili mediante il software di Elgato con illimitate combinazioni, possibilità di creare cartelle e tante altre cose. Qui invece abbiamo la nuova versione, lo Stream Deck Plus, che come potete vedere riduce di un po' i tasti. Ne abbiamo 8 di quelli canonici che troviamo anche sullo Stream Deck Mark II, ma si aggiunge un piccolo schermo LCD con 4 funzionalità e sotto, connesso sempre a questo schermo touch, abbiamo 4 manopole in metallo, sembra alluminio, di veramente ottima fattura. Come potete vedere le dimensioni sono diventate abbastanza importanti sul nostro Stream Deck Plus. È veramente molto più grosso rispetto allo Stream Deck canonico e questo anche perché ovviamente ha bisogno di gestire delle parti un po' più ingombranti come appunto l'LCD e le 4 manopole rispetto a questo che invece utilizza semplicemente 15 tasti a pressione e sono molto molto più semplici da gestire lato PCB. Questo è veramente bello grosso, consideratelo qualora abbiate una postazione un po' compressa in cui streammate. Ma le dimensioni sono giustificate dal punto di vista delle funzionalità. Infatti funziona esattamente come un normale Stream Deck, ma come dicevo aggiunge delle cose molto interessanti. Primo tra tutti mi permetto di farvi vedere una chicca, ovvero il fatto che abbiano introdotto la possibilità di cambiare schermata tra quelle impostate, non solo utilizzando la classica pressione di un tasto a cui abbiamo abbinato il cambia pagina, ma anche mediante lo swipe effettivo sopra il nostro schermo LCD Touch posizionato a metà del nostro Stream Deck. Questa è una cosa veramente super figa perché considerato che abbiamo soltanto 8 caselle con cui lavorare, averne 2 occupate dal fatto di dover andare avanti e indietro nelle pagine è un po' ledente. Invece così possiamo utilizzarle tutte 8 per 8 vere funzionalità. Questo Stream Deck ragazzi non è un prodotto primo nel suo genere all'interno del mercato, infatti questa è una risposta di Elgato ad alcuni dei prodotti che di recente sono usciti dalla concorrenza. Infatti probabilmente molti di voi non lo conosceranno, ma questo genere di prodotti è stato per la prima volta introdotto da Ludepec, che è un'azienda completamente ignorata nell'ambito generalista, soprattutto per lo streaming, anche se di recente hanno introdotto qualcosa di utile, ma fa prodotti molto molto simili agli Stream Deck da tanti anni, ma soprattutto sono stati i primi a introdurre prodotti con manopole di controllo, molto molto utili nell'ambito di Premiere, Final Cut, Da Vinci e cose del genere. Quindi questa è una risposta di mercato a quello e penso anche un pochino al più recente prodotto di Razer, fatto appunto in collaborazione con Ludepec stessa. Per quanto riguarda la configurazione, allora, io sapete che non sono uno streamer, quindi Twitch non è il mio ambito di lavoro, ma comunque mi ritrovo ad avere delle utilità nell'utilizzo dello Stream Deck. In questo caso, per esempio, io sulla schermata principale ho impostato alcuni dei miei launcher principali su cui si trovano i giochi a cui gioco più spesso, e poi alcune funzionalità secondarie di controllo, per esempio per quanto riguarda il troubleshooting. Tutte queste cose le ho trovate nel plugin Marketplace, che è gratuito e già incluso all'interno del software di Elgato, ma ovviamente voi vorrete sapere delle manopole della parte bassa, come si integrano. Sono veramente carine, anche se c'è da dire che sono un po' limitate. La cosa più banale e ovvia che si possa fare con queste manopole è impostare la regolazione del volume, ovvero semplicemente al sistema, se premi fai il mute, se vai verso sinistra riduci il volume, e se vai verso destra invece lo aumenti. Diciamo che la componente utile è avere anche il piccolo riferimento dello schermo touch sopra, che oltretutto ha anche una sua funzionalità, nel senso che se premiamo sopra il nostro Stream Deck, per esempio in questo caso col volume, mutiamo completamente il sistema. Ma queste sono cose abbastanza generali. Un'altra funzione veramente utile è il controllo delle luci di Elgato, come per esempio quella che sta illuminando la mia faccia e spalle in questo momento. Infatti con questa nuova versione a manopole possiamo controllare con soltanto due slot occupati il 90% delle funzioni di queste luci, che solitamente invece occupano almeno 3-4 slot nel controllo dello Stream Deck. Infatti utilizzando la funzione di Dial Stack, che è una piccola funzione in cui possiamo inserire più funzioni che variano alla pressione della manopola stessa, quindi premiamo una volta, abbiamo la funzione 1, premiamo due volte, abbiamo la funzione 2. Insomma possiamo controllare le nostre luci, per esempio semplicemente nell'accensione e spegnimento con un solo tasto, possiamo anche modificare ovviamente l'intensità luminosa e la temperatura colore, cosa che prima andava fatta con una marea di tasti sopra lo Stream Deck canonico, e onestamente era un po' tedioso. Devo ancora esplorare bene la sezione plug-in per quanto riguarda tutte le funzionalità totali delle manopole, ma penso di aver reso l'idea. Nel senso che tutte le cose che possano essere controllate con una regolazione assiale che vada da 0 a 100, in questo momento onestamente sono fattibili con queste manopole. Però per adesso devo dire che comunque in generale le funzionalità sono abbastanza limitate, se andiamo a prendere quelle che già Elgato predispone all'interno del suo software non sono tantissime, infatti faticherete ad avere bisogno di più di una schermata per quanto riguarda le manopole, a meno che non siete delle persone particolarmente maniacali che vogliono controllare singoli programmi, ma anche in quel caso comunque non riuscirete a occupare più di 8-12 funzioni con le nostre manopole, sono abbastanza intuitive e soprattutto il fatto di poter fare dial stacking, quindi mettere più funzioni su una singola manopola, rende abbastanza inutile avere più schermata. Ma questo è un punto negativo e un punto positivo insieme, nel senso un po' si bilanciano. Una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo in tutti gli Stream Deck, ragazzi, è il fatto che Elgato permetta di lavorare indipendentemente dal loro operato, con nuovi plug-in fatti dalla community, e che possono anche essere venduti come terze parti in marketplace esterni o interni, cosa veramente molto interessante perché permette alla community di aiutare la community. In questo caso, secondo me, un prodotto del genere può far faville nell'ambito del video editing. Ancora non l'ho comprato, ma ho trovato un plug-in a 35 dollari di uno youtuber che si occupa principalmente di DaVinci Resolve, che appunto integra al 100% le possibilità di utilizzo del nostro Elgato Stream Deck Plus. E onestamente sembra molto interessante, ha fatto le icone, ha fatto tutte le cose di controllo, si può fare color correction, si può cambiare varie sezioni. Onestamente è qualcosa di molto interessante che potrebbe valorizzare l'acquisto di uno Stream Deck, anche per chi non sia effettivamente uno streamer. Comunque, in generale, vi consiglio di esplorare un pochettino i marketplace, sia quello ufficiale di Elgato che quelli esterni, anche quelli a pagamento, per riuscire ad avere delle funzionalità extra per i vostri Stream Deck, perché le possibilità finali di integrazione con questi prodotti sono assurde. Ho visto gente organizzare la loro produttività per intero con integrazioni, per esempio, di plugin su Notion, ci sono veramente tantissime cose che si possono fare, migliorano tantissimo la vita e onestamente sono anche molto facili da programmare. Il programma di Elgato è fatto molto molto bene, non ho ancora riscontrato alcun problema nell'utilizzo e onestamente ne vale la pena. Chiaramente non stiamo parlando di prodotti economici, ma non dovete nemmeno per forza comprare questi due, e potete anche, per esempio, partire da uno Stream Deck Mini, che vale la pena di essere comprato se abbiamo, per esempio, bisogno soltanto di un piccolo touchpad extra con una facile personalizzazione mediante un software dedicato. Se dovessi trovare dei difetti per questo prodotto, vi direi che le manopole sono veramente un'introduzione interessante, nel senso che permettono una scalabilità futura decisamente migliore rispetto all'utilizzo dei soli tasti a membrana che troviamo, per esempio, sullo Stream Deck classico, però al tempo stesso, come dicevo prima, senza avere una direzione concreta, cioè nel senso delle necessità pratiche che le richiedano, è difficile visualizzare il modo in cui si possano utilizzare, e quindi magari per alcuni possono risultare abbastanza inutili, e uno Stream Deck classico può bastare. Però, secondo me, per uno Streamer tornano utili, magari puoi regolare l'audio in gioco, puoi regolare l'audio della musica, puoi regolare le luci e contemporaneamente l'audio di sistema, oppure mutarti il microfono, regolare appunto l'intensità del microfono qualora ti serve, insomma, ci sono un tot di cose che puoi fare, e che tornano utili in un contesto in cui devi essere abbastanza reattivo come una Stream. Però, secondo me, l'utilizzo, diciamo, più sensato lo si trova coniugando i plugin di terze parti, come per esempio quello che vi ho fatto vedere per Da Vinci Resolve, Final Cut, o robe del genere, insomma, qualcuno che si sia seduto a tavolino e abbia fatto un plugin pensato bene per l'utilizzo con queste manopole, e che si attacchi concretamente ad un programma e lo sfrutti al 100%. Per quanto riguarda la qualità costruttiva, siamo di fronte a un corpo completamente in plastica, niente di particolarmente eccessivo. Le manopole, invece, sono fatte molto bene, sono fatte in alluminio nero, sono lavorate molto bene, particolarmente piacevoli, hanno una zigrinatura fantastica, crea un attrito meraviglioso, la scorrevolezza in generale nella rotazione è fatta e pensata molto bene, su questo niente da dire. Mi spiace solo che, nonostante l'incremento di prezzo, dovuto principalmente alla presenza delle manopole, dello schermo LCD, non abbiano migliorato in alcun modo la parte invece di pressione del classico tasto, che rimane un po' molliccia, un po', insomma, generica. Niente di che, non un'esperienza tattile eccezionale, ecco giusto quello che serve per premere, ma niente di particolare. Insomma, è un prodotto interessante se avete modo e tempo di esplorarlo nel momento in cui lo comprate, non fermarvi alle solite cose, come per esempio accendi, spegni le luci, regola il volume, cose così. Come un prodotto abbastanza particolare, ma anche molto molto interessante, a mio dire. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti, lo comprereste, considerato che costa soltanto un po' di più rispetto allo stream deck canonico? Fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video, voi stati su Modern Tech, Salusa!